Mi riferisco alla qualità alta, eccetto quando vengo io però, la qualità alta degli ospiti di TV 2000. È una fortuna avere a che fare con gente che col proprio lavoro aiuta a districarsi tra la massa e la tassa di messaggi per lasciarsi raggiungere da quelli che davvero fanno crescere. Bene, un'altra piccola e breve riflessione vorrei farla sullo spazio che TV 2000 riserva a Papa Francesco e al suo servizio pastorale e al suo messaggio. È uno sforzo fecondo, quello che TV 2000 e Radio Grufanno, uno sforzo fecondo per tutti. Perché sento di dire questo? Perché al di là di gente davvero pigra mentalmente e spiritualmente esterilita, al di là di gente che non sa liberarsi dalle proprie fissazioni e che ama rimanere in uno stato di perenne e insistente vedovanza, al di là di queste persone, il modo in cui TV 2000 maneggia Papa Francesco non è un modo servile o strumentale.